ben tornati amici sul mio canale o se siete nuovi benvenuti io sono elisa true crime e anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata vi ricordo che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare diffondere consapevolezza ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie prima di raccontarvi la storia di oggi devo fare un piccolo disclaimer perché nel caso di oggi parlerò di disordini alimentari tra le cose e so che è un argomento molto delicato e che potrebbe triggerare qualcuno di voi quindi se è così per favore non fatevi del male saltate questo video non mi offendo chiaramente e ci rivediamo tranquillamente al prossimo oggi amici ci troviamo in oaio dove vive la famiglia richardson i richardson sono una di quelle famiglie che da fuori sembrano perfette kim e scott sono sposati felicemente con una bella casa e due bellissimi figli un maschio di nome jackson che gioca nella squadra di football del liceo e una femmina di nome brooke skylar che fa la cheerleader e sembra che io vi stia praticamente descrivendo i protagonisti di una qualsiasi serie americana no ecco all'apparenza è proprio così perché i richardson sono stimati e invidiati da tutto il vicinato nel weekend organizzano sempre feste o grigliate nel giardino di casa hanno tanti amici e i loro figli in particolare skylar che è la protagonista della storia di oggi è la classica ragazza più popolare della scuola è di bell'aspetto sempre molto curata e di successo come vi ho detto fa la cheerleader nella squadra del suo liceo precisamente nella posizione di flyer quindi quella che viene lanciata in alto o sollevata e probabilmente avrete visto abbastanza i miei video da sapere che purtroppo in queste storie quando c'è una famiglia che da fuori sembra troppo perfetta per essere reale è perché probabilmente non lo è infatti all'interno di questo nucleo familiare le cose non sono così luccicanti come sembrano skylar purtroppo soffre di un brutto disordine alimentare e sua mamma racconta che ne soffre da quando è ancora una bambina al momento dello svolgimento della storia skylar ha 18 anni ma sua mamma racconta che già ne soffriva all'età di 12 ricorda infatti che skylar a quell'età già si privava del cibo e addirittura non mangiava le gomme da masticare perché contenevano 5 calorie ed è molto triste ovviamente sapere che una bambina a quell'età già si preoccupi di questo tipo di cose questo disturbo col tempo non fa altro che peggiorare skylar infatti sempre dai racconti di sua mamma ha iniziato a mangiare e poi a indursi il vomito per controllare il suo peso e pare che i suoi genitori l'abbiano portata da un nutrizionista quando era ancora piccola ma non sembra che skylar sia mai stata veramente seguita da uno psicologo in età adulta ma questa informazione in realtà non è molto chiara quindi chi lo sa magari era seguita e noi non lo sappiamo ma vi dirò che da quello che si evince da tutta questa storia mi verrebbe da dire di no però è una mia personale deduzione quindi potrebbe non essere così nel luglio del 2016 comunque skylar ha 17 anni e inizia ad avere le sue prime relazioni frequenta in questo periodo un ragazzo di nome trei che sarebbe un amico di suo cugino un ragazzo un po più grande di lei con cui però esce solo per uno o due mesi e poi nel gennaio del 2017 conosce un nuovo ragazzo un ragazzo di nome brandon che frequenta la sua stessa scuola con brandon le cose sembrano andare bene si può dire che sia il suo primo vero fidanzato infatti sua mamma kim racconta di vederla finalmente felice in quel periodo finalmente sua figlia ha una relazione sana e positiva che impatta anche sul suo stato di salute perché le sembra che anche il suo disordine alimentare stia migliorando skylar infatti sta finalmente mettendo su peso intorno a marzo sempre del 2017 brandon chiede a skylar di andare al ballo studentesco insieme a lui e lei ovviamente accetta e insieme a sua mamma va a scegliere il vestito come vedete dalle foto un bellissimo abito a sirena rosso lo stesso mese va anche in vacanza con la sua famiglia vanno al mare e anche in quell'occasione sua mamma racconta di aver proprio notato con piacere vedendola in costume che appunto stava mettendo su peso quindi chissà forse i disturbi che aveva avuto in passato erano solo più un brutto ricordo il 26 aprile skylar ha da poco compiuto 18 anni ha fatto il compleanno praticamente il mese prima il 9 marzo e dato che le cose con il suo fidanzato stavano diventando sempre più serie sua mamma kim decide di portarla a fare la sua prima visita dal ginecologo per farle anche prescrivere un contraccettivo per farle prescrivere la pillola consapevole che tanto prima o poi suo figlio avrebbe iniziato ad avere rapporti si recano insieme allo studio ginecologico durante la visita kim rimane ovviamente fuori ad aspettarla ma quando skylar esce dallo studio del dottore è visibilmente scossa come se avesse pianto sua mamma allora le chiede cosa succeda perché stia piangendo e skylar le risponde in modo un po' evasivo le dice che era stata un'esperienza traumatica quella visita al ginecologo cioè non era stata una cosa molto piacevole kim si accontenta di quella risposta perché sì sicuramente andare dal ginecologo non è la cosa più piacevole e divertente del mondo e non le fa altre domande le cose procedono in modo sereno per qualche mese il 5 maggio skylar si reca al ballo studentesco con il suo fidanzato brandon indossando quel bel vestito ma il 14 luglio succede qualcosa che cambierà la vita di skylar e dei richardson per sempre quel giorno infatti si presentano a casa dei richardson due agenti di polizia tra cui il tenente john fain della contea di warren chiedendo di poter prelevare skylar e di poterla portare in centrale per farle qualche domanda e quando i suoi genitori chiedono il motivo di questa cosa la risposta degli agenti è scioccante e inaspettata rispondono che praticamente avevano ricevuto una telefonata dallo studio di un ginecologo che gli comunicava che brooke skylar richardson era incinta aveva partorito e aveva sepolto il neonato nel giardino di casa durante questo interrogatorio viene chiesto a skylar che cosa sia successo e lei racconta tra le lacrime che il giorno della visita ginecologica quindi il 26 aprile durante la visita il ginecologo si era accorto che la ragazza era incinta era incinta di otto mesi skylar racconta di non sapere di essere incinta cioè di averlo scoperto proprio lì durante la visita per questo quando era uscita sua madre aveva l'impressione che avesse pianto anche perché il padre di questo bambino non era brandon il suo attuale fidanzato ma trei il ragazzo con cui era uscita per qualche mese prima di lui skylar aveva chiesto al ginecologo di non dire niente a sua madre di non dire niente a nessuno e di prescriverle lo stesso la pillola in modo che sua madre non avrebbe sospettato nulla il ginecologo allora le aveva detto di non essere d'accordo con questa soluzione ma essendo skylar maggiorenne immagino avesse il diritto di non far sapere a nessuno il suo stato di gravidanza neanche a sua madre per quanto riguarda la prescrizione della pillola il dottore alla fine gliela prescrive a patto che ovviamente non la prendesse e a patto che sarebbe tornata qualche giorno più tardi per un controllo più approfondito in ogni caso il battito del bambino era forte e chiaro e per quello che il dottore ha potuto vedere in quella breve visita il bambino sembrava sano anzi sana perché era una femminuccia uscita dal dottore skylar però non aveva detto niente a nessuno non aveva detto niente a sua mamma non aveva detto nulla ad un'amica si era tenuta questo segreto per lei e aveva continuato a vivere la sua vita come se nulla fosse era andata al ballo studentesco col fidanzato e una volta lì proprio quella sera aveva iniziato a stare male forse ad avere le contrazioni perché infatti racconta di aver avuto dei forti crampi e di essere tornata a casa prima e il giorno dopo durante la notte quindi la notte tra il 6 e il 7 maggio skylar racconta di aver iniziato ad avere forti crampi e di aver sentito come se qualcosa volesse venire fuori era quindi andata in bagno e durante l'interrogatorio racconta di aver partorito questa bambina sul gabinetto racconta poi di essere scesa in garage con la bambina in braccio di aver preso una pala di aver scavato una piccola buca poco profonda lì nel giardino e di avercela seppellita dentro ma attenzione skylar racconta che la bambina è nata già senza vita specifica più volte di non averle tolto lei la vita sentite so you dig a hole you dig a small hole um did you place her in the hole okay how far down do you think that you dug not that deep i'm sorry not that deep not that deep i wasn't strong enough i hurt really bad and would you be able to show us exactly where it is yeah i'm sorry okay um did you um skylar racconta anche di essere tornata dal ginecologo qualche mese dopo dal parto esattamente il 12 luglio quindi solo due giorni prima da questo interrogatorio per chiedergli un'altra prescrizione per la pillola al che chiaramente il ginecologo le chiede ok ma che fine ha fatto la bambina l'ultima volta che sei venuta eri incinta ora non lo sei più cosa è successo al che lei era crollata e gli aveva confessato quello che vi ho appena detto quindi di aver dato alla luce la bambina di nascosto dai suoi genitori perché durante la notte nessuno si era svegliato e questa bambina era nata senza vita e dice di averla seppellita in giardino ed è stato proprio a questo punto che il ginecologo aveva chiamato le autorità per segnalare la cosa il detective durante l'interrogatorio le fa diverse domande per capire esattamente cosa sia successo e vuole anche essere sicuro del fatto che lei non abbia causato la morte della bambina perché come vi ho detto il ginecologo aveva registrato un battito e una gravidanza nonostante tutto sana e normale e questo era solo poche settimane prima dal parto quindi che cosa era successo nel frattempo le chiede se per caso abbia fatto delle ricerche su internet cercando come abortire da sola e lei risponde che sì in effetti ha fatto delle ricerche e ha cercato come abortire senza andare dal dottore ma non ha mai fatto effettivamente nulla sentite poi il detective le dice una cosa molto precisa le spiega di pensarci molto bene alle ricerche che ha fatto su internet perché loro sono obbligati a verificare quello che lei dice e se dovessero trovare delle discrepanze la cosa diventerebbe molto più grave per lei quindi con un tono molto rassicurante devo dire non è per nulla intimidatorio per quanto comunque la situazione a prescindere lo sia le dice pensaci bene perché comunque noi le tue ricerche prima o tardi le vedremo e qui allora lei riformula un po' quello said, you know, how to give yourself an abortion or how to do a self-abortion. I don't think there should, no, no, I don't think, um, I think the only thing I search is how to not have a baby or how to get rid of a baby, but I never did any of it. Okay, well, but, but see, how to get rid of a baby is kind of, I mean, that's like how you know, not that it sounds bad, but it's just a different terminology. L'altra detective che è nella stanza con loro poi le chiede se dopo aver scoperto di essere incinta, dopo quella visita dal ginecologo, abbia preso la pillola che si era fatta prescrivere dal dottore e lei ha risposto di sì, ha preso la pillola dal 26 aprile in poi perché dice che non pensava che avrebbe fatto del male al bambino. Subito dopo il detective Fane esce dalla stanza e Skylar ha un crollo, inizia a piangere e a dire che le dispiace, che non vuole andare in prigione e che non sa come farà a dirlo ai suoi genitori, ha paura che si arrabbieranno con lei. Allora la detective Katie G la consola, l'abbraccia, le dice di non preoccuparsi e poi va a chiamare i suoi genitori affinché entrino nella stanza e possano parlare con lei e ovviamente, che loro lo sappiano oppure no, la conversazione è filmata e registrata e ho trovato questo scambio tra Skylar e i suoi genitori molto interessante. Praticamente i suoi genitori entrano nella stanza, l'abbracciano e il padre le chiede allora cosa ti hanno detto? Skylar gli risponde vogliono sapere se ho ucciso io il bambino. Al che la madre molto gentilmente le risponde sì, andrai in galera e poi aggiunge Skylar avevamo una vita perfetta, mi hai mentito e ora perderai anche Brandon per questo. Sentite. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. You should have just told us, I know, I mean, kids get pregnant every day, pregnancy is not the end of the world. I'm so sorry. What did they tell you? They just, I think they want to know if I killed it myself. Yeah, you're going to jail. I didn't go. Skylar, we have a perfect life. I just... Who's the father? Trey, that guy you should do a long time ago. You lied to me about him. You lied to me about so much and now you're really springing to know the best. I'm sorry. I'm sorry. E per il resto del loro incontro possiamo vedere suo padre che è, secondo me, effettivamente di supporto. Le dice che avrebbe dovuto dirglielo, loro avrebbero potuto aiutarla mentre invece adesso è troppo tardi e prova a farla mettere nei loro panni, insomma. Le dice cose come riesci ad immaginare il nostro orrore nello scoprire tutto questo adesso. Mentre invece sua madre continua a ricordarle che probabilmente andrà in galera e non solo. Sua madre è completamente concentrata sul fatto che la loro reputazione sarà rovinata. Le dice che tutti sanno, che i loro vicini di casa lo sanno già e che ne parleranno i telegiornali e che tutti sapranno. Poi la madre le dice anche che se faranno un'autopsia alla bambina e scopriranno che al momento della nascita era viva di nuovo lei andrà in prigione. Lei risponde che lo sa ma che secondo lei non era ancora viva. E a quel punto i genitori vogliono capire meglio e le chiedono dei dettagli come per esempio come abbia tagliato il cordone umbilicale e come faceva sapere che la bambina fosse senza vita. Al che Skylar risponde che quando è nata la bambina lei l'ha stretta molto molto forte. Suo padre continua a cercare di capirci qualcosa, le chiede quando è successo, com'è possibile che non abbiano sentito niente, com'è possibile che abbia partorito da sola così. Ma lei non lo ascolta, lei chiama sua mamma, vuole l'attenzione di sua mamma, le chiede se può tenerle la mano e come se di tutta questa storia, di tutto quello che è successo le importasse solamente di non perdere la stima di sua mamma. E poi sua mamma dice questa cosa che secondo me è importante, cioè il padre giustamente le chiede scusami ma tu sei andata dal ginecologo, lui ha visto che eri incinta e ti ha comunque prescritto la pillola e lei risponde un po' come se fosse una bambina, cioè proprio come se non sapesse assolutamente nulla. Risponde proprio boh sì, non lo so, sì. E il padre le chiede ma tu hai preso la pillola da quel giorno nonostante sapessi di essere incinta? E lei risponde sì, boh non lo so, me l'ha prescritta il dottore e io l'ho presa. E il padre le risponde ok ma tu sapevi di essere incinta perché te l'ho detto il dottore hai comunque preso la pillola, insomma lui si fissa su questo punto e lei risponde sempre la stessa cosa, non lo so, me l'ha prescritta il dottore e io le ho prese, non pensavo facessero del male al bambino. A questo punto la madre le dice con il suo solito tatto ok benissimo se tu hai preso la pillola sapendo di essere incinta allora questo potrebbe aver ucciso la bambina, questo è omidio colposo. La cosa che ha lasciato basite molte persone è il modo in cui Skylar parla di questa bambina, Skylar infatti non ne parla usando il pronome lei ma it che in inglese si usa solo ed esclusivamente quando ci si riferisce ad una cosa, ad un oggetto inanimato, ad una cosa oppure ad un animale ma persino quando si parla degli animali in realtà spesso ci si riferisce a loro con lei o lui dipende dal loro sesso ma riferirsi alla bambina di cui era incinta con it come se fosse un oggetto diciamo che ha fatto storcere il naso a molte persone. Mentre si svolge questo interrogatorio nello stesso momento a casa dei Richardson ci sono altri agenti delle autorità locali che stanno cercando i resti di questa bambina nel loro giardino e dopo averli trovati li portano ad analizzare. Skylar comunque al momento non è accusata di nulla quindi torna a casa con i suoi genitori ma solo sei giorni dopo riceve un'altra chiamata dal detective Fain in cui le chiede di nuovo di recarsi in centrale per un secondo interrogatorio e questo perché sono emerse delle novità. Questa volta nella stanza insieme al tenente Fain c'è la detective Brandy Carter e in questo interrogatorio i detective sempre in modo molto gentile con tono rassicurante ripeto per quanto la situazione sia intimidatoria di per sé fanno sapere a Skylar che oltre ad aver analizzato i suoi dispositivi e le ricerche che ha fatto sul web i loro antropologi forensi hanno analizzato i resti della bambina e da quello che è venuto fuori loro sanno che quel giorno il giorno del parto è successo qualcosa qualcosa di più rispetto a quello che lei ha raccontato cioè non è andata come ha raccontato lei che ha partorito la bambina è nata senza vita e quindi lei l'ha seppellita in giardino che oddio è già atroce solo questo ma dall'autopsia e dalle analisi antropologiche che la dottoressa Elizabeth Murray ha svolto sui resti è venuto fuori che la bambina non è nata senza vita ma è morta in seguito ad una violenza omida la proprio definita così la dottoressa e non solo questo ma sulle ossa della piccola ha anche trovato tracce di bruciature come se qualcuno le avesse dato fuoco ora io ve l'ho detto in modo così diretto e brutale ma è importante sapere che durante l'interrogatorio non non gliel'hanno detto in questo modo a Skylar e il perché sia importante il modo in cui lei viene trattata in questo interrogatorio lo vedremo più avanti ma vorrei ci faceste caso perché poi vorrò sapere la vostra opinione su una cosa dunque per una parte di interrogatorio cercano di farlo dire a lei che cosa sia successo le spiegano solo che ci sono dei medici forensi molto esperti che hanno studiato per tanti anni e che sanno quello che fanno che hanno prove scientifiche del fatto che quella notte sia successo qualcos'altro e che lei non ha raccontato tutta la verità e quindi loro vorrebbero sapere tutto ad un certo punto Skylar risponde quindi che forse c'era il cordone umbilicale che potrebbe essere stato attorcigliato intorno al collo della bambina ma nel primo interrogatorio quando i suoi genitori le hanno chiesto se ci fosse il cordone umbilicale attorno al collo lei aveva risposto chiaramente di no quindi mentiva prima o mente adesso e non c'era un cordo o niente no c'era nulla c'era un afterbirth o qualcosa c'era un placenta c'era un sacco di qualche tipo c'era nulla c'era nulla c'era un placenta c'era un placenta c'era un bambino c'era un placenta poi cambia versione anche su un'altra cosa rispetto al primo interrogatorio nel primo infatti aveva detto di non aver fatto cadere la bambina nel gabinetto aveva detto di averla presa e tirata fuori nel secondo interrogatorio invece dice di averla non solo fatta cadere nel gabinetto facendole forse sbattere la testa ma di averla lasciata lì per circa due minuti dopodiché dice di averla presa e di averla stretta un po' troppo forse e poi aggiunge penso di averla uccisa io sentite let's start there so now you had picked her out from the toilet and you wrapped her in a towel and held her easily and just be truthful now let's go from there and go with the room but listen you said something really interesting you said I think maybe I held her too tight tell me what that means quindi a 19 minuti dall'inizio di questo interrogatorio Skylar ammette di aver probabilmente ucciso lei questa bambina ma andiamo avanti perché chiaramente non è ancora finita quando la detective Carter chiede a Skylar se la bambina avesse un nome lei risponde di sì l'aveva chiamata Annabelle e dopo poco la detective Carter le chiede di raccontarle che cosa ha fatto col fuoco perché ci sono prove che Annabelle sia stata bruciata quindi Skylar nega di averle mai fatto del male in questo modo nega di averla mai bruciata con il fuoco o con altre fonti di calore e a questo punto i detective adottano una strategia che viene adottata molto spesso durante gli interrogatori quando l'interrogato continua a negare qualcosa che molto probabilmente ha fatto ovvero sminuiscono l'azione criminosa cioè sminuiscono il crimine quasi lo giustificano gli fanno credere che quello che ha fatto non è poi così grave anzi è quasi normale quasi nobile e in questo modo l'incriminato sarà più propenso a confessare perché si sentirà capito non si sentirà in pericolo questa strategia è stata adottata per esempio durante l'interrogatorio a Chris Watts vi faccio questo esempio perché è lampante i detective in quel caso erano sicuri che Chris Watts avesse tolto la vita alle sue due figliolette e a sua moglie Shannon ma lui continuava a negare quindi uno dei detective gli ha detto che magari lui non ha tolto la vita a sua moglie perché è cattivo e malvagio magari è successo qualcosa magari sua moglie stava facendo del male lei alle sue figlie e lui per proteggerle in preda alla rabbia le ha tolto la vita è comprensibile l'avrebbe fatto chiunque ovviamente amici non è comprensibile e non l'avrebbe fatto chiunque ma capite cosa voglio dire l'obiettivo è tirar fuori la verità e infatti Chris Watts aveva abboccato e aveva finalmente confessato dicendo ah sì bravo è andata così e una volta che confessi un pezzettino poi è sempre più facile arrivare alla verità completa perché inizi ad ammettere alcune cose a contraddirti su altre in più ci sono tutte le prove e pian piano il quadro si forma ecco quindi fanno un po' la stessa cosa con Skylar non l'accusano di essere una diabolica teenager che ha dato fuoco ad una bambina innocente e poi la sepolta in giardino come se fosse un cane la detective Carter le dice che forse ha pensato di cremarla forse voleva tenere le sue ceneri vicine così da avere per sempre un ricordo di lei della bambina forse lo ha fatto per questo quindi forse lo ha fatto in buona fede no? perché lei è una persona buona e poi magari ha cambiato idea e ha deciso che non voleva più farlo anche perché i segni di bruciatura non sono su tutte le ossa ma solo su alcune quindi in realtà non è riuscita a darle completamente fuoco però vabbè spero di aver spiegato bene questa la dinamica di questa tecnica che si usa a volte negli interrogatori perché anche in questo caso Skylar abbocca perché a questo risponde così quindi Skylar ammette di aver preso un accendino e la pala ammette di aver provato a darle fuoco ma poi ha subito cambiato idea e l'ha appunto sepolta nel buco che aveva fatto ora l'ultima cosa da capire con certezza è se questa bambina sia nata viva oppure no quindi il detective glielo chiede ancora una volta come facevi a sapere che era senza vita se prima hai detto che forse stringendola forte potresti averla uccisa tu cioè se pensi questo vuol dire che quando è nata era viva e tu lo sapevi quindi ok Skylar ha confessato queste cose che avete appena sentito ho letto non voglio ripeterle perché è orribile e ovviamente durante l'interrogatorio Skylar è terrorizzata nonostante i detective siano carini con lei le tengano la mano chiaramente ha paura ha paura di andare in prigione infatti questa è una domanda che pone ai detective in continuazione andrò in prigione andrò in prigione e insomma comprensibilmente pone questa domanda direi i suoi genitori la raggiungono di nuovo nella stanza dell'interrogatorio e lei confessa anche a loro per la prima volta questa cosa orribile gli dice proprio ho cercato di cremare la bambina un pochettino a questo punto i detective hanno abbastanza elementi per arrestare Skylar quindi quello stesso giorno viene arrestata le accuse sono gravissime omitidio aggravato omitidio colposo esposizione a pericolo di minore e abuso di un corpo e solo per l'accusa di omitidio aggravato nello stato dell'ohaio in cui loro si trovano è previsto categoricamente l'ergastolo quindi Skylar se condannata rischia di dover passare tutta la sua vita in prigione viene però deciso che Skylar al momento può rimanere agli arresti domiciliari fino all'inizio del processo che si svolgerà ben due anni dopo all'udienza comunque lei si dichiara non colpevole e a questo punto proprio subito prima che il processo abbia inizio avviene un colpo di scena che credetemi non ho capito vi ricordate la dottoressa Elizabeth Murray l'antropologa forense che aveva trovato tracce di bruciature nelle ossa della bambina ebbene da che era sicura di questo risultato da che anche nell'interrogatorio i detective continuavano a ripetere ci sono prove scientifiche inconfutabili di questo eccetera eccetera così all'improvviso la dottoressa Murray ritratta tutto il suo lavoro e dopo aver analizzato nuovamente le ossa a gennaio del 2018 ha dichiarato che no non c'è nessun segno di bruciatura ah e anche il modo in cui è morta la bambina non si può definire con chiarezza quindi da che era foga omicida violenza omicida adesso non non si può capire anzi non si può definire neanche se sia nata viva oppure no il processo inizia il 3 settembre del 2019 e si apre con la ringa dell'accusa un'apertura molto d'effetto perché l'avvocato dell'accusa legge degli sms che Skylar stessa aveva inviato a sua mamma la mattina dopo aver partorito e seppellito la sua bambina in giardino vi leggo questi messaggi sono letteralmente senza parole per quanto io sia felice in questo momento sono letteralmente così eccitata in questo momento solo per andare a cena e indossare qualcosa di carino yeee la mia pancia piatta è tornata e voglio cogliere quest'occasione per renderla pazzesca non lascerò mai 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 più che diventi così cioè che ingrassi così e tu stai per vedermi molto più bella di prima OMG oh mio dio e sua madre a questo messaggio risponde questo è quello che intendo brava questo è il modo giusto di essere grande atteggiamento ha dato i suoi frutti sono così fiera di te sarai bellissima domani a scuola invece al suo fidanzato Brandon sempre lo stesso giorno manda questo messaggio stanotte è stata la peggiore notte di sempre ma mi sento molto meglio stamattina e sono felice quindi cosa vuole evidenziare l'accusa che lei il giorno dopo da questo evento traumatico era felice e pensava alla sua pancia alla sua pancia piatta a dimostrazione del fatto che quella bambina era vista da lei solo come un problema un problema che ormai era stato superato yay le argomentazioni dell'accusa sono che Skylar ha tolto la vita a questa bambina perché semplicemente non la voleva non voleva diventare madre non voleva rovinare la vita che aveva quell'autunno sarebbe andata al college insomma vedeva quella bambina come un intoppo e sperava di sbarazzarsi di quell'intoppo in quel modo cioè senza che nessuno lo scoprisse senza doverlo dire ai suoi genitori senza essere sgridata senza essere giudicata insomma nel modo che secondo lei era più semplice e funzionale l'accusa dichiara anche che il ginecologo quel giorno il giorno della visita in realtà si era preoccupato di chiederle se avesse intenzione di fare del male a se stessa o al bambino e nel caso in cui le venisse questa voglia le aveva detto di chiamarlo immediatamente e le aveva appunto fatto promettere che sarebbe andata a fare una visita al più presto cosa che invece lei non ha mai fatto e non solo non si è più fatta visitare ma come sappiamo ha subito iniziato a prendere la pillola nonostante il dottore le avesse detto ovviamente di non prenderla perché è chiaro che la pillola anticoncezionale non puoi prenderla mentre sei incinta anche se lei nell'interrogatorio ha negato questa cosa il dottore ovviamente dice di averglielo detto l'accusa afferma anche che numerose volte lo staff medico dello studio del ginecologo compreso il ginecologo stesso hanno provato a telefonarle appunto più e più volte ma lei non ha mai risposto e non ha mai attenzionato le loro preoccupazioni ovviamente parte delle argomentazioni dell'accusa sono le ricerche che Skylar ha fatto su internet ovvero come sbarazzarsi di un bambino e mettono in luce anche la relazione disfunzionale che c'era tra Skylar e sua madre Kim secondo l'accusa Kim era ossessionata dall'aspetto estetico di sua figlia e monitorava costantemente il suo peso per questo Skylar aveva sviluppato un disordine alimentare infatti durante il processo verranno fuori anche tutta una serie di messaggi che Skylar mandava a sua madre di tutte le volte che si ammazzava di palestra di tutte le volte che bruciava le calorie addirittura le mandava foto in intimo per mostrarle quanto magra fosse tutto per sentirsi dire da lei da sua madre brava infatti l'accusa dice che quando un giorno sua madre Kim le ha chiesto se fosse incinta perché è successa questa cosa perché effettivamente come sappiamo Skylar era ingrassata e si vedeva un pochettino di pancia penso l'abbiate vista anche voi dalle foto del ballo studentesco per quanto fosse una pancia molto piccola effettivamente credetemi la mia dopo mangiato è più gonfia ma comunque quando Kim le aveva fatto questa domanda ma sei incinta Skylar le aveva subito mentito dicendole di no nonostante a questo punto lei sapesse già di essere incinta perché questa cosa è successa dopo essere andata dal ginecologo perché Skylar non poteva neanche pensare di deludere sua madre o di deludere le aspettative che sua madre aveva di lei aspettative comunque molto superficiali e secondo me questo lo si evince anche dagli interrogatori che la prima cosa di cui si è preoccupata sua madre è stata che tutti avrebbero saputo che loro avevano una vita perfetta e questo l'avrebbe rovinata ad un certo punto addirittura pensate che aveva iniziato a dire ma perché sta succedendo tutto questo a me proprio a me io non ho fatto niente di male io sono già stressata non posso pensare anche a questo e viene da dire hello va bene tutto ma davanti a te c'è tua figlia che rischia di andare in prigione cioè non sta succedendo a te sta succedendo a lei cioè non sarebbe il momento di mettere te da parte e provare a dare un po' di supporto a lei e infatti durante gli interrogatori quando i suoi genitori erano presenti e suo padre le parlava e cercava di farle comprendere la gravità della situazione vi ricordate Skylar era come dissociata era come se non le importasse nulla tranne che della sua mamma la guardava la chiamava le diceva mamma posso tenerti la mano mamma mi ami ancora mamma per supportare questa tesi sempre l'avvocato dell'accusa legge un messaggio che sua madre Kim aveva mandato a Skylar sempre il giorno in cui le aveva chiesto se fosse incinta e in questo messaggio le aveva scritto che se fosse rimasta incinta la sua vita sarebbe finita e non avrebbe mai più avuto un futuro e quindi questo unito al rapporto tossico che aveva con sua mamma e all'ossessione di doverla con piacere a tutti i costi e mai deluderla l'ha portata probabilmente a pensare di non avere altra scelta se non quella di sbarazzarsi di questo bambino senza farlo mai sapere a nessuno a costo a costo di rischiare la sua stessa vita se ci pensate perché questa ragazza ha partorito nel bagno di casa e nonostante abbia perso moltissimo sangue non è mai andata all'ospedale l'accusa continua dicendo che nei giorni successivi mentre la piccola Annabelle era sepolta nel giardino di casa Skyler è andata in palestra e ha iniziato ad allenarsi per appunto tornare la ragazza magra e popolare che sua mamma voleva che lei fosse sempre l'accusa mostra in aula questa foto scattata solo ore dopo aver dato alla luce Annabelle la difesa invece verge più sul fatto che Skyler fosse una ragazza molto giovane e molto spaventata che soffriva di questo orribile disordine alimentare che effettivamente sua madre fomentava e su questo è d'accordo persino la difesa e dice anche che il modo in cui Skyler messaggiava con sua madre cioè quei messaggi che sembrano così orribili e disturbanti leggendoli adesso erano normali per loro cioè loro si scrivevano quelle cose costantemente l'avvocato della difesa dice anche che è assolutamente plausibile che Skyler non si sia resa conto di essere incinta prima della visita dal ginecologo perché a causa del suo brutto disordine alimentare spesso non aveva le mestruazioni già di suo quindi quello non è stato un campanello d'allarme per lei sì era un po' ingrassata ma anche quello può capitare può capitare anche nei disordini alimentari e come vi dicevo la sua pancia non era grande la difesa continua affermando che quando ha partorito quando Skyler ha partorito la bambina era già senza vita perché Skyler negli interrogatori aveva detto all'inizio che appena nata la bambina era molto pallida aveva detto che non si muoveva e che non aveva il cordone umbilicale attaccato e quindi si suppone che sia nata senza vita per questo secondo la difesa perché appunto non aveva ricevuto nutrimento il motivo per cui dopo Skyler si è rimangiata tutto e addirittura ha confessato di averle tolto la vita e addirittura di averle dato fuoco è che la sua confessione è stata una falsa confessione una confessione estorta con l'inganno dai due detective la difesa sostiene che i detective hanno chiesto a Skyler per ben 17 volte se avesse dato fuoco alla bambina e che lei abbia negato di averle tolto la vita per ben 29 volte la difesa sostiene quindi che ad un certo punto Skyler abbia confessato per poter andare a casa per dirgli quello che volevano sentirsi dire perché era una ragazzina terrorizzata e non voleva andare in prigione e quindi ha detto sì ok va bene l'ho fatto ma in realtà secondo la difesa non è vero e lo dimostrerebbe il fatto che appunto in realtà non c'era nessun segno di bruciatura sulle ossa gli avvocati della difesa accusano i detective anche di aver mentito quando sono andati a casa di Skyler per interrogarla la seconda volta perché non hanno parlato subito ai genitori non non sono stati sinceri con loro e non gli hanno subito detto dei dubbi che avevano sulla loro figlia ovvero che lei avesse tolto la vita alla bambina e che le avesse dato fuoco quindi li accusano di aver voluto prendere Skyler alla sprovvista terrorizzandola e portandola a confessare con l'inganno suo padre infatti dichiara che se avessero capito subito la gravità della cosa non l'avrebbero mai fatto andare al secondo interrogatorio da sola senza un legale presente e ovviamente in aula vengono mostrati tutti i video degli interrogatori di cui abbiamo parlato ampiamente prima e che avete visto anche voi comunque sono pubblici su youtube se volete guardarli per intero la difesa sostiene che i detective hanno fatto una sorta di ricatto morale a Skyler durante gli interrogatori ad esempio dicendole che i resti di Annabelle non sarebbero potuti tornare alla sua famiglia e non avrebbero potuto darle una degna sepoltura fino a che lei non avesse collaborato e ovviamente contestano anche il fatto che durante l'interrogatorio come vi dicevo prima abbiano detto a Skyler che la cosa del fuoco delle bruciature sulle ossa era una cosa provata scientificamente una prova certa mentre invece come abbiamo visto così non era quindi secondo la difesa tutto questo avrebbe portato Skyler ad ammettere queste cose assurde che però non erano vere inoltre durante il processo emerge anche un'altra cosa su Skyler emerge che in passato all'età di 12 anni proprio quando aveva iniziato a soffrire di disordini alimentari Skyler sia stata vittima di violenza sexuale non si sa nulla di più riguardo a questo fatto ma ai tempi era stata portata anche da uno psicologo che è anche testimoniato al processo e che le aveva diagnosticato il disturbo da dipendenza affettiva e questo secondo la difesa avrebbe contribuito a farla sottomettere ai detective durante gli interrogatori perché avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di tornare a casa sua con i suoi genitori e chiaramente amici a questo punto questo caso è incredibilmente mediatico la storia di Skyler una giovane dolce cheerleader che ha presumibilmente fatto queste cose orribili al suo stesso bambino e su tutti i giornali e su tutti i telegiornali e in un'intervista sua madre racconta che la gente li ha crocifissi racconta che hanno subito stalking hanno ricevuto minacce di morte insulti dice che la sua pagina facebook non era più facebook ma hate book cioè non era più faccia libro ma odio libro perché la odiavano tutti e le scrivevano le peggio cattiverie e racconta anche che la pressione è stata ingestibile e spaventosa in quel periodo alla fine comunque arriva il giorno in cui la giuria emana il suo verdetto Brooke Skyler Richardson viene dichiarata innocente di tutte le accuse tranne quella di abusi su un corpo perché comunque che abbia seppellito Annabelle nel giardino di casa sua con una pala è un dato di fatto mentre invece per le altre accuse le prove effettivamente non erano sufficienti prima che la sentenza venga emanata la madre di quello che sarebbe stato il padre della bambina quindi la madre di Trey si fa avanti per fare una dichiarazione e in questa dichiarazione lei dice che quel giorno la sua nipotina Annabelle avrebbe avuto due anni quattro mesi e due settimane se fosse che fosse viva ma il mio bambino che per la mia vita senza pensare ha perduto il primo bambino e Skyler non aveva intenzione di mai lasciare anche Skyler fa una dichiarazione al giudice prima che emani la sentenza e dice le seguenti parole grazie vostro onore io farò tutto quello che lei vorrà e capisco e voglio solo dire quanto io sia dispiaciuta qualche volta posso essere egoista ma mi piace pensare che io sia diventata migliore il sapere di aver fatto arrabbiare tutti e di aver ferito così tante persone con quello che ho fatto mi renderà per sempre dispiaciuta mi dispiace tantissimo e capisco grazie e ora veniamo alle parole del giudice ve le leggerò io ho sempre pensato a questo caso come alla storia di due giovani ragazzine Skyler Richardson e Annabelle Richardson sai io ho una figlia della tua età e ho una nipote dell'età che Annabelle avrebbe oggi ora la giuria ha determinato che tu non sei colpevole di aver tolto la vita alla tua bambina né intenzionalmente attraverso lo medio aggravato né involontariamente con lo medio colposo ma in tutto questo caos di questo caso penso che quello che è stato dato per scontato Miss Richardson è quanto sia preziosa la vita la tua vita e la vita di Annabelle la vita è preziosa e dovrebbe essere protetta e preservata e io ho revisionato tutti i pareri degli esperti in questo caso e le loro testimonianze e penso fermamente Miss Richardson che se tu avessi preso delle decisioni differenti in questo caso Annabelle sarebbe qui oggi e so che potrebbe essere difficile per te da sentire alcune persone sono inclini a pensare beh questa è l'America uccidiamo bambini che non sono ancora nati ogni giorno ma io non la vedo in questo modo Miss Richardson e la legge non mi permette di considerare le azioni che hai compiuto prima di partorire ma penso che le scelte che hai preso prima del parto durante il parto e dopo dimostrano una grottesca inosservanza nei confronti della vita e quando guardo questo caso è questo che secondo me ha offeso la sensibilità della comunità Skyler viene condannata a tre anni di libertà vigilata da cui però viene assolta due anni prima quindi di base fa solo un anno di libertà vigilata e dal 2020 è una donna libera e non solo nel 2022 Skyler ha vinto una specie di asta non so bene come si traduca in italiano anche perché non credo esista questa cosa nella legge italiana ma scrivetemi nei commenti se sto dicendo una cavolata comunque fondamentalmente Skyler e il suo avvocato hanno presentato una petizione al tribunale affinché tutta la sua documentazione tutta la documentazione riguardante la sua condanna venga sigillata e non sia più visibile a nessuno e questa petizione è stata accolta è stata approvata insomma quindi dal 2022 non è più visibile a nessuno nessuna documentazione riguardante il caso di Skyler riguardo le carte processuali nulla ovviamente rimane tutto visibile alle forze dell'ordine così che nel caso in cui in futuro Skyler commettesse un crimine loro possono vedere che ha già dei precedenti ma noi poveri babbani non possiamo più vedere nulla lo paragonerei in qualche modo al nostro diritto all'oblio ma non proprio perché riguarda solo la parte delle documentazioni per farvi capire il processo di Skyler è pubblico lo trovate su youtube per intero trovate tutti i video tutto quanto ma le carte processuali se le cercate non le trovate più e non solo in realtà questa cosa serve più che altro a lei perché quando in futuro vorrà trovare un lavoro o non lo so chiedere un prestito in banca non risulterà da nessuna parte che ha dei precedenti ecco ad oggi pare che Skyler frequenti il college e lavori part time niente meno che nello studio legale che l'ha difesa al processo e oltre questo di lei non si sa più nulla sono davvero curiosa di sapere che cosa pensate di questo caso perché io sono sempre stata un po' confusa se posso darvi la mia umile opinione qua alla fine del video così se non volete saperla potete chiudere qua ciao se invece volete saperla potete continuare a guardare io penso che la sentenza sia stata allora secondo me avrebbero dovuto imporle come parte della condanna un percorso obbligatorio in terapia perché palesemente Skyler non stava bene in tutti i sensi cioè ha subito una violenza quando era piccola ha sviluppato un gravissimo disordine alimentare una dipendenza affettiva e il modo in cui era completamente dissociata parlando di questa bambina parlando di quello che era successo secondo me dice molto così come il fatto di decidere di seppellirla in giardino cioè davvero mi è sembrato come se fosse dissociata dal mondo come se vivesse in un mondo tutto suo in cui boh se non raccontava nessuno questa cosa allora voleva dire che non era mai successa sono d'accordo sul fatto che il rapporto con sua madre fosse assolutamente tossico c'è tanta gente che pensa che la madre fosse d'accordo con lei che sapesse che sua figlia era incinta e c'è addirittura chi pensa che l'abbia aiutata a partorire e a seppellire la bambina ma a questo io onestamente non credo non ci credo io penso che se la mamma avesse saputo piuttosto l'avrebbe aiutata a trovare un'altra soluzione ma non avrebbe mai rischiato di infangare così tanto il loro nome rischiando la galera preoccupata com'era della loro immagine secondo me no e inoltre ci sono così tante opzioni per le giovani madri che non vogliono essere madri e non possono abortire perché Skylar ovviamente non poteva abortire a otto mesi ma mi piace pensare che se un adulto fosse stato coinvolto avrebbe trovato una soluzione migliore per tutti a partire da Annabelle poi c'è tanta gente che non crede al fatto che Skylar non sapesse di essere incinta e si chiedono se così fosse come abbia fatto a non accorgersene come abbia fatto sua madre a non accorgersene questo io non lo so a me Skylar è sembrata molto più immatura della sua età quindi non lo so non fatico a credere che non abbia davvero mai pensato di essere incinta ma il vero problema qua secondo me è il modo in cui ha reagito cioè la sua reazione alla scoperta di esserlo cioè Skylar era una ragazza che andava seguita che secondo me fino alla fine non ha compreso la gravità di quello che ha fatto infatti qual è stata la sua dichiarazione al giudice al processo prima della sentenza mi dispiace di aver fatto arrabbiare tutti non una parola su quello che effettivamente ha fatto anche solo a se stessa cioè lei era preoccupata solo di aver fatto arrabbiare gli altri era preoccupata di cosa gli altri pensavano di lei e questo palesemente è frutto del suo rapporto distorto con sua madre persino durante gli interrogatori quando le hanno comunicato che sarebbe andata in prigione lei ha chiesto ai detective mi odiate cioè non si tratta di giustificarla non la sto giustificando ma di comprendere cioè di comprendere cosa si potrebbe fare affinché altri ragazzi giovani come Skylar non commettano gli stessi errori di comprendere che cosa ha portato Skylar a comportarsi in questo modo io so che molti di voi guardano questi episodi proprio con le loro mamme perché me lo dite continuamente e forse dopo questo in particolare ne discuterete ne parlerete tra voi e non lo so per questo mi piacerebbe davvero leggere le vostre considerazioni sicuramente potrebbero nascere degli scambi interessanti nei commenti ma ovviamente vi ricordo sempre di essere gentili poi infine se Annabelle sia nata viva oppure no io non lo so cioè effettivamente su questo non ci sono molti elementi per per dare un'opinione penso sia strano che lei abbia confessato qualcosa che non ha fatto sì penso che le abbiano estorto una confessione nì cioè potrebbe essere è una cosa piuttosto comune molta gente confessa cose che non ha fatto e per quanto i detective secondo me siano stati gentili perché secondo me lo sono stati c'è da ricordare che Skylar non è cioè non era a quel punto una ragazza equilibrata quindi potrebbe anche essersi fatta manipolare ma ditemi voi che cosa pensate di questo caso lasciatemi come sempre un commento e io come al solito vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video ciao ciao